A partire da venerdì 8 fino a martedì 12 maggio, nel tratto di mare antistante Alghero, si terranno le esercitazioni militari da parte di due unità della Marina Militare Italiana, i sommergibili Nave Palmaria e Sciret. Quest'ultimo in particolare rappresenta uno dei fiori all'occhiello della Marina Militare Italiana. La Guardia Costiera di Alghero, guidata dal tenente di Vascello Lorenzo Badano, ha pubblicato un'apposita ordinanza in cui tutte le unità navali in transito vengono ammunite a prestare la massima attenzione ai mezzi di superficie e subacque impegnati nelle esercitazioni.